Ciao, sono Renzo, ingegnere e architetto con una grandissima passione per la geologia, soprattutto per i luoghi della vallata di Sauris, dove abito in una bella casa. Ho sempre avuto la passione per queste scienze naturali e ricordo ancora con grande piacere i corsi che frequentai durante i miei studi universitari. La vallata di Sauris nasconde siti geologici di straordinaria importanza dovuta all'evoluzione di una laguna che nel corso di 250 milioni di anni si è trasformata in una zona montuosa. Le tracce lasciate da molluschi e conchiglie si sono fossilizzate e vengono spesso studiate da ricercatori provenienti da tutto il mondo. Il comune di Sauris vorrebbe allestire nel Museo Etnografico una sezione dedicata proprio alla geologia. Ci puoi aiutare a ricercare le tracce di questo importante passato? Disegneremo insieme una istantanea di 250 milioni d'anni fa. Ti aspettiamo al Museo Etnografico dove ti forniremo anche le attrezzature e tutte le conoscenze per svolgere questa ricerca.